Adair Shetkic, seconda gara consecutiva per la Stemar 90, che gioca nuovamente qui al Pallaricu, ci affronterà Frassati Ciampino. C'è bisogno di vincere questa partita, questo scontro da deluse, visto che tutte e due arrivate da un periodo con pochissime vittorie. Penso che questo campionato comunque non consente passi falsi e che noi fino adesso li abbiamo fatti parecchi. Questa domenica non abbiamo diritto di fare questo passo falso, dobbiamo andare dritti per vincere e per non rischiare più una sconfitta inmeritata come ci sono state tante in nostro campionato di quest'anno. In prima partita con loro abbiamo fatto vedere che sicuramente meritiamo di più, anche se in quel momento loro erano imbattuti. Penso che questa domenica ripagheremo quegli errori che abbiamo fatto in andata. Affrontata una squadra che punta molto sulle penetrazioni centrali, punta molto ad andare dritto a canestra, per cui servirà il lotto a porta proprio sotto il canestro, soprattutto in difesa secondo me. Sì, infatti il nostro coach Gabriele Larosa ha fatto ottimo scouting come per tutte le partite. Siamo pronti sui nostri punti di forza ma anche sui loro punti deboli. Penso che loro sono abbastanza diversi di Ferentino che abbiamo affrontato la settimana scorsa. Ferentino si appogge tantissimo sui post basso e situazioni dentro l'area. Invece, come hai detto, Ciampino fa tantissime penetrazioni. Sarebbe importante chiudere l'area e prendere rimbalzi soprattutto. Il rimaggio sarebbe emozionato, visto che da poco sei tornato in campo, l'hai fatto contro Ferentino. Come è stato tornare a giocare dopo un periodo di stop? È stata un'emozione bellissima per me, soprattutto che è stata una partita in casa, quindi ho fatto esordio proprio in casa nostra, in altra casa mia, perché qua mi sento così. Non lo so, era veramente bello ma anche da un punto di vista difficile rientrare in campo dopo un anno, visto che l'anno scorso ha finito con un infortunio. Comunque cercherò di dare sempre più di 100% e di far divertire il nostro pubblico, i nostri tifosi, ma soprattutto di vincere più gare possibili. Te ringraziamo perché durante il periodo di sosta ci ha aiutato anche con le interviste, facendo il traduttore con i ragazzi stranieri. Dicevi, casa mia, la Stepan 90, la cestistica, lo vediamo anche dalla tribuna nuova che vede questa bandiera della Bosnia, per cui ti senti veramente a casa. Sì, infatti l'ho portata perché la casa mia, la casa mia primaria, la porto ovunque, quindi credo che ho fatto bene portare questa bandiera qua, dove... Speriamo di fortuna. Infatti, porta la fortuna e ci mettiamo su una strada più bella.